Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici del Trading Club anche oggi in diretta le 14.30 per commentare le ultime notizie dai mercati finanziari ovviamente per lasciarvi sempre anche qualche spunto di riflessione vi ricordiamo inoltre che per tutto il periodo estivo fino all'11 settembre ci sarà un'ulteriore diretta alle ore 18 quindi mi raccomando sempre sul pezzo e se non ci potete essere in diretta avete sempre la playlist a disposizione come sempre ripartiamo da una frase da una citazione che deve essere per noi motivo di ispirazione e oggi partiamo da Usain Bolt mi sono allenato quattro anni per correre 20 secondi altre persone non vedendo il risultato in due mesi si arrendono e vanno via a volte il fallimento se lo vanno cercare questo è sicuramente da monito per qualunque tipo di attività che si va ad intraprendere anche quando si fanno investimenti sui mercati finanziari perché bisogna essere preparati certo non ci vogliono quattro anni per fare un profit ma non ci vogliono neanche 20 secondi quindi è importante sempre essere preparati per costruirsi una rendita costante nel tempo attraverso il lavoro quotidiano oggi andremo ad approfondire quello che è successo ad Antonio Conte la truffa scandalo da 30 milioni di euro e poi come sempre torneremo a parlare anche dei mercati finanziari con il nostro Paolo Zambarbieri però prima di tutto questo spazio alla sigla delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su youtube unisciti al nostro grido i miei soldi li gestisco io prima di passare agli argomenti odierni vi ricordiamo che avete la possibilità di rivedere tutti gli episodi dall'inizio dell'anno fino ad oggi questo vi permetterà di meglio comprendere quello che sta accadendo adesso sui mercati finanziari perché ovviamente conoscere il passato poi aiuta anche a lavorare nel futuro ma soprattutto tutto questo vi permetterà di risparmiare fino a 1500 euro sulla vostra formazione quindi mi raccomando non lasciatevi scappare tutto questo trovate ovviamente tutto sul canale di assistenza brokers su youtube venendo e partendo diciamo dal primo argomento della giornata avrete sentito e se non l'avete sentito siamo qui noi per commentarlo della truffa nella quale è incappato il famoso allenatore di calcio dell'inter Antonio Conte fondamentalmente che cosa è successo Antonio Conte aveva destinato addirittura 30 milioni di euro a un ex gestore un ex gestore di HSBC ve lo dico in italiano scusate comunque è la principale banca londinese aveva affidato addirittura 30 milioni di euro da gestire ovviamente attendendo di avere indietro sia i 30 milioni di euro più gli interessi che gli erano stati promessi come spesso capita in queste situazioni interessi molto più alti rispetto a quelli pagati mediamente dal mercato il truffatore in questo caso il gestore si chiama Bocchicchio che avrebbe portato avanti diciamo la truffa tramite la sua società la Kidman la Kidman scusate asset management tra l'altro è notizia di queste ore che altri personaggi famosi legati al mondo del calcio si sono fatti truffare proprio da questa attività da questa società leggevo ad esempio anche un altro calciatore Patrice Evra e anche altri manager molto importanti del calcio come Pastorello però al di là di questo la cosa importante che è accaduta è che in questi al 30 giugno doveva essere ridato il capitale per gli interessi e questo capitale non è tornato indietro non è tornato indietro ci sono stati solleciti su solleciti e adesso quello che è accaduto è che è stato bloccato il patrimonio di Bocchicchio pari a circa 60 milioni di euro che in questo momento è irreperibile diciamo ma di queste situazioni torniamo a parlare bene o male ogni 3-4 mesi più o meno 3-4 volte l'anno perché capita sempre più spesso che ci si vada a affidare ad affidare a persone che reputiamo diciamo competenti e data questa competenza fondamentalmente incappiamo in quello che viene definito per quanto riguarda B.A il bias dell'autorità in azione perché vengono utilizzati nomi conosciuti come ad esempio la principale banca inglese e per questo motivo abbassiamo le nostre difese fondamentalmente non andiamo più a verificare effettivamente che cosa ci sta dietro perché la truffa qui a che cosa è legata al fatto che questa società di Bocchicchio diceva di avere depositato i capitali presso un conto della HSBC quindi questa grandissima azienda inglese cosa che poi non era vera tra l'altro per verificare tutto questo bastava semplicemente affidarsi a un avvocato o un notaio pensando a chi sta destinando 30 milioni di euro sarebbe stato il minimo però quando ovviamente vediamo dei nomi così altisonanti poi la stessa cosa che accade in banca se ci pensate l'anno scorso a quella che è stata la truffa dei diamanti cioè tanti piccoli investitori che si sono trovate ad acquistare diamanti per cifre spropositate rispetto al loro effettivo valore tra l'altro anche per questo vi rimandiamo a leggere l'articolo che avevamo fatto all'interno del nostro blog e sempre per quanto riguarda tutte le truffe le quali bisogna stare assolutamente attenti vi rimandiamo anche qui alla playlist su youtube visto che l'anno scorso in ottobre tra fine ottobre inizio novembre avevamo addirittura dedicato un'intera settimana alle truffe e a come fondamentalmente andarle ad evitare tramite la settimana del risparmio quindi mi raccomando ci teniamo ecco a riprendere questi casi non tanto per fare informazioni ma per ricordarvi di stare assolutamente attenti per ricordarvi che l'unico modo per essere certi di dove stanno i vostri soldi e di come questi vengono gestiti è prendersene cura da soli piano piano interessandosi e chiaramente applicandosi nella gestione delle proprie finanze perché come diciamo sempre nessuno è degno di gestire i vostri risparmi quindi andate ad approfondire tutti questi argomenti perché possono sempre essere utili anche per il futuro quando vi vengono proposti degli investimenti che magari non sono poi in linea con quello che ci si aspetta ovviamente andate anche a leggere l'articolo su blog in relazione a questa situazione in che si sta sviluppando sempre di più e ovviamente l'andremo a riprendere però come sempre non ci piace solamente fare diciamo informazione ma vogliamo anche dare degli spunti un po' più operativi quindi vorrei dare la parola al nostro paolo zambarbieri perché ieri nella giornata di ieri abbiamo parlato della lithium america scorp che tra l'altro ieri ha preso anche una bella bastonata sui mercati quindi potrebbe diventare più interessante a questi prezzi andarla ad acquistare però ho chiesto in aiuto per l'opinione del nostro paolo zambarbieri per capire se anche da un punto di vista fondamentale un'azienda interessante oppure no quindi ben ritrovato paolo lascio a te le redini della sessione grazie andrea ciao e ben ritrovati a tutti i carissimi amici allora ieri con con il mio rientro dopo le ferie dopo le vacanze bella rilassato ho sentito subito la sessione di andrea eh relativa un po' appunto all'argomento del litio eh questo è un argomento che già in tempi passati già nei trading crowd precedenti in particolare qua si va indietro fino al 2017 vedete io avevo fatto un articolo il 28 marzo eh di ben tre anni fa che parlava appunto di questo eh di questo materiale di questo petrolio eh bianco questo perché eh in passato ripartendo un po' dall'etf lit che proprio ieri mostava Andrea eh il litio era una una materia prima era comunque un strumento dal punto di vista anche a livello di etf molto appetibili per i livelli che eh si trovavano appunto nel 2017 infatti se vedete appunto questo eh questo articolo vedete che appunto in quel periodo eh tra inizio del nuovo anno quindi nel 2017 il litio batteva intorno ai eh 26 dollari eh circa quindi più o meno vedete ci trovavamo intorno ecco a a questi a questi livelli e io eh ebbi segnalato poi questo sottostante questo questo etf perché appunto c'erano delle grossissime potenzialità di crescita e voi pensate che comunque nel 2017 iniziava proprio un po' l'esplosione il primo rally fortemente realzista anche da parte eh di Tesla che come già accennato ieri dal nostro Andrea eh gran parte dell'estrazione di litio viene utilizzata per le batterie soprattutto per quanto riguarda le batterie eh elettriche delle auto eh elettriche. Ieri eh Andrea ci ha parlato di una società che si chiama Lithium Americas che eh proprio con il suo spunto poi sono andato a a guardare a studiare perché comunque è un titolo che eh da inizio dell'inizio anno ha fatto comunque delle degli ottimi risultati delle ottime ripartenze eh nonostante un po' le difficoltà un po' per quanto riguarda un po' tutti i titoli della del mercato finanziario nel periodo del coronavirus ma poi vedete che ha preso eh una forte andamento realzista ma proprio ieri quando eh Andrea ha fatto un po' la sua sessione vedete che ha perso eh diversi punti eh con appunto la chiusura della giornata della giornata appunto di ieri e eh ritroviamo un po' un prezzo intorno ad area eh di eh sette dollari che era proprio il prezzo spartiacque di supporto che ci segnalava ieri eh Andrea. Eh vedendolo adesso dal punto di vista tecnico intanto che siamo intorno eh e siamo scusate agli allo studio grafico io in questo momento eh difficilmente eh entrerei su eh questo titolo eh direzionalmente perché vedete che con questo incrocio ribassista con il MACD e con questo RSA impicchiata e con questo forte crollo in questo momento di entrare a a questi prezzi con eh con questo storno ribassista non è dal mio punto di vista il migliore dei momenti però possiamo comunque tenere monitorato questo eh questo titolo ma soprattutto appunto questo livello in area sette dollari perché assolutamente con questi prezzi può essere una società che vedete ha raggiunto anche dei livelli un po' più importanti in area a dieci che sono stati un po' i massimi storici che comunque può regalarci anche qualche eh soddisfazione dal mio punto di vista non è un grandissimo titolo se devo dirla tutta perché eh eh magari un prezzo basso e appetibile a livello di dollaro e che ci può stare però non viene confermato dal punto di vista fondamentale eh diciamo la 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 solidità eh di quanto per quanto riguarda appunto lithium americans perché eh vengono solo pronosticate delle buone prospettive di crescita futura che comunque si potevano vedere come ho fatto io poco fa eh con l'analisi grafica ma per quanto riguarda flussi di cassa dividendi e salute finanziari siamo piuttosto messi eh maluccio quindi io questo è un titolo che francamente non andrei a eh detenere all'interno del mio portafoglio anche perché per quanto riguarda un po' questa eh diciamo possibilità ecco questa eh possibilità della miniera ecco che si trova di fianco alla fabbrica di Tesla per avere un rapporto direttamente con la società eccetera ecco sono tutte questioni che si vedranno con il tempo quindi entrare così eh su questo titolo in questo momento è un po' è un po' difficoltoso più che difficoltoso è un po' aggressivo ecco e tra l'altro è una cosa molto importante è sì eh quantificato come eh titolo del mercato americano ma è comunque una società canadese quindi all'occhio anche a questa cosa e all'occhio anche all'eventuale rischio cambio arrivo quindi oggi a riprendere un po' questo argomento di lite per proporvi due titoli che io da diversi anni seguo e che comunque conosco meglio rispetto a eh quello che ha eh proposto ieri Andrea il primo eh titolo che vi vado a eh proporre quest'oggi è Albe Marla è un titolo in questo caso si parla di un titolo americano si parla di eh una società che utilizza anch'esso il litio per quanto riguarda la produzione principalmente di eh batterie per auto elettriche e come società sta decisamente messa meglio se dal punto di vista fondamentale poi vediamo anche la sua analisi tecnica questo tra l'altro il sito di Albe Marla nella quale dà ampio spazio anche a eh quello che è l'utilizzo eh che ehm che viene fatto del litio quindi le sue ehm come si può dire appunto il suo uso nei vari nei vari business tra cui appunto il principale è quello relative alle alle batterie delle auto elettriche però già dal punto di vista fondamentale a colpo d'occhio eh possiamo vedere tutte sufficienze sia per quanto riguarda flussi di cassi che tra l'altro addirittura viene sottostimato il titolo di circa il sessantuno punto otto il sessantadue per cento al di sotto della della stima cioè una stima che viene fatta in base ai flussi di cassa eh delle altre società quindi di altri competitor del del settore c'è eh un'ottima prospettiva di crescita degli utili durante durante l'anno e soprattutto anche i dividendi sono i dividendi piuttosto importanti che anche detenendo il titolo vedete un sessantasette per cento in un anno quindi detenendo anche il titolo sul lungo termine comunque ci possono essere degli introiti dei delle entrate passive appunto con lo stacco eh delle cedole arrivando dal punto di vista tecnico eh il titolo secondo me è davvero molto interessante perché eh sicuramente vedete che rispetto a eh l'AC ha raggiunto dei livelli molto più elevati a livello di prezzo vedete che eh soprattutto nel 2017 vedete con eh quello che è stato il movimento del lito delle società come Albemarle che sono che sono che è appunto una delle società cardini per quanto riguarda questo business ha avuto il il più forte slancio di eh tutti i tempi raggiungendo i suoi massimi storici ora lo ritroviamo eh oggi nel 2020 ad agosto su questo livello in area 91 e 99 più o meno che la chiusura di ieri quindi io ho tracciato questa trend line di resistenza in area 92 dollari che è un'area di prezzo una zona appunto che è stata già toccata e testata diverse volte prima come area di supporto vedete in questa in questa zona ma poi è stata testata per ben due volte quindi raggiungendo due doppi massimi sia nel 2018 e poi l'ha rifatto ancora nel 2020 quindi questo è un livello di prezzo secondo me molto importante per quanto riguarda il titolo dal punto di vista tecnico ora eh abbiamo dei segnali ancora positivi con il MACD e un RSI che vedete eh intorno a questi livelli ci dice poco e niente però comunque abbiamo un andamento del titolo ampiamente rialzista che ci accompagna da marzo vedete eccolo qua abbiamo avuto qualche piccolo storm nei giorni nei giorni precedenti però ancora un MACD vedete che qua eh va a combattere un po' sulla positività e quindi secondo me è da monitorare questo titolo e qualora dovesse rompere diciamo un po' questo livello segnalato in area 92 magari anche con dei volumi eh superiori a quelli medi che tendenzialmente va a registrare allora sì che potrebbe prendere un po' eh diciamo il il suo il suo andamento puro rialzista e potrebbe magari accompagnare anche questi titoli a questo titolo a livelli un po' più elevati ad esempio un primo livello magari di eh di target potrebbe essere in zona cento centosette cento otto e perché no magari rivederlo anche a questi livelli ovvio che non lo può fare dal logico il domani però comunque le prospettive per una crescita futura per anche un investimento direzionale ci possono assolutamente stare io personalmente sapete che tendenzialmente vado a coprirmi sempre con eh per trading quindi trovando un titolo in coppia da accompagnare al titolo principale magari nei giorni successivi andiamo a schedulare anche un intervento non direzionale per abbassare il rischio però volevo segnalare questa società perché dal mio punto di vista rispetto a ciò che abbiamo visto ieri e sempre restando nel comparto delle batterie per auto elettriche la vedo diciamo come una società più mh interessante più importante poi da tenere all'interno del portafoglio la seconda proposta o comunque secondo titolo che eh voglio segnalarvi che eh vi faccio magari eh mantenere nella vostra watch lista è Intel Corporation probabilmente lo conoscete eh un po' di più rispetto da Albemar perché eh qua si parla di eh di tecnologie si parla di semiconduttori in realtà perché comunque eh Intel è una società che eh sì ci produce computer che penso che sia la cosa più eh comune che vediamo con con i nostri occhi ma in realtà il suo diciamo livello tecnologico è proprio la produzione di questi semiconduttori i semiconduttori sono realizzati con il litio quindi qua non parliamo di auto elettrica ma parliamo proprio di tecnologie di sviluppo futuro tecnologico quindi secondo me è un campo che attualmente è più tangibile rispetto all'auto elettrica infatti secondo me dal punto di vista eh societario Intel e lo vediamo anche con l'analisi fondamentale è una società attualmente più solida rispetto ad Albemar perché vedete che anche dal punto del punto di vista del del fiocco di neve quindi anche con un colpo d'occhio guardate vedete questo colore arancione rispetto al verde che ci viene mostrato su Simple Wall Street abbiamo eh dei flussi di cassa è praticamente con una valutazione di eh di 5 su 6 quindi è uno strumento in questo momento o meglio è un titolo che è sottovalutato abbiamo dei dividendi più alti rispetto ad Albemar qua si parla del 2 69 per cento anno un'ottima salute societaria ma anche un'ottima storia a livello a livello di andamento andamento di performance lo troviamo Intel qua ad un prezzo ancora molto importante molto interessante perché se Albemar comunque ha già un prezzo discretamente alto perché comunque già ha avuto questo questa ripresa rialzista Intel probabilmente dovuto un po' alle difficoltà che ha avuto negli earnings perché appunto in questi giorni in cui ha fatto questo questa forte discesa ci sono state le notizie le notizie trimestrali lo ritroviamo ora un livello secondo me davvero molto appetibile anche per eh un'entrata mh più aggressiva ecco che si può fare rispetto ad Albemar perché questo livello in area eh 49 ecco io ho tracciato questa trend line intorno eh vedete a no intorno a quarantasette scusate quarantasette quarantotto quarantasette ottanta e ottantaquattro e secondo me è un livello importante di di possibile supporto eh ci sono tutti i presupposti vedete per una ripartenza rialzista abbiamo un RSI che riparte lì per venduto un MACD che è appena incrociato a rialzo con istogrammi positivi vedete una volatilità che si è già ridotta e lo vediamo eh dal riavvicinamento delle bandi di Bollinger che vanno ad avviluppare il grafico e secondo me appunto a questi livelli può essere un titolo davvero molto interessante da tenere all'interno del portafoglio tra l'altro eh sempre dal punto di vista tecnologico Intel è uno di quei titoli che è una di quelle società che sta sviluppando moltissimo la realtà virtuale che se la paragoniamo anche un po' dal punto di vista delle auto elettriche sempre la realtà virtuale può essere un business che nel futuro si potrà continuare a sviluppare anche qua vede comunque dal punto di vista di prezzi possono eh toccare anche dei livelli eh un po' più elevati però anche qua andiamo a combattere un pochettino su questo supporto e vi eh e ritengo ecco che il titolo debba essere monitorato per anche appunto come dicevo eh accedere al mercato anche nei prossimi nei prossimi giorni anche qua eventualmente nelle prossime sessioni vi porto anche qualche coppia o comunque insieme agli amici dell'azionario in beta trading magari di posto qualche cosa all'interno dell'academy così siete sicuramente un po' tutti aggiornati detto questo io eh concludo un po' eh questa sessione come sempre eh ricordandovi che avete l'opportunità eh di partecipare attivamente a queste sessioni delle quattordici e trenta eh venendo o qua in ufficio quindi fisicamente eh chiaramente portandovi per motivi di sicurezza il vostro computer cioè il vostro portatile le cuffiette la mascherina eh mi raccomando prenotate il vostro posto qualora voleste essere dei nostri scrivendoci a info chioccia assistenza brokers punto it oppure qualora siete distanti eh geograficamente potete sicuramente fare un vostro intervento comodamente da casa vostra sempre qua alle quattordici e trenta anche qua eh scriveteci ovviamente info chioccia assistenza brokers punto it per prenotare il vostro posto e quindi ehm fare la sessione con eh tutti noi e per chiudere un po' tutto il cerchio io vi ricordo ancora che per quanto riguarda questo periodo estivo con il summer trading club avete l'opportunità di avere eh uno sconto del trenta per cento su tutti i nostri ehm diciamo progetti a livello mensile di quello che è il nostro trading club sui tre mesi sei mesi oppure un anno intero eh di formazione qua avete il link in descrizione per saperne di più oppure comunque potete sempre mandarci una mail che così ci si può anche organizzare con un appuntamento telefonico mh ci conosce meglio capiamo un po' le vostre esigenze e poi capiamo eventualmente come mettervi sulla eh giusta strada quindi mi raccomando eh pensateci che di tempo ce n'è ancora ma sempre di più si sta riducendo perché qua eh una promozione che sarà valida fino all'undici settembre fino a poi la ripartenza effettiva e pura dell'ultimo trimestre del trading club duemila e venti quindi mi raccomando eventualmente fateci eh sapere detto questo io eh vi saluto vi ringrazio per l'attenzione vi aspettiamo dopo alle diciotto oppure domani eh sempre qua eh con noi alle quattordici e trenta ciao a tutti e una buona serata a tutti e una buona serata ciao a tutti e ciao a tutti e